oh non sembra delizioso no mi è finita sulla malla oh mio dio sono senza cibo ed è tutta colpa vostra oh ma guarda questo sembra buono lo so che voi troll venite sul mio canale mi dite di mangiare e salutare ma se poi mangio del cibo salutare nessuno guarda il video quindi farò quello che faccio sempre e mangerò questi taki piccanti grazie per la visione tornerò domani a mangiare il taco bell e taki dobbiamo rifare questa foto aspetta quale quella dove eravamo in florida qualche anno fa erano bei tempi ma abbiamo preso altro formaggio al negozio ne ho bisogno per un video voglio provare a farne altri due per oggi se riesco a mantenere il passo riusciremo a comprare quella casa che stavamo adocchiando chissà magari compriamo anche delle gip coordinate no 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 ma che succede no tocarmi no tocarmi no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.